E' giusto raggiungere il tanto agoniato posto fisso in cambio di diritti e flessibilità? Ora mi trovo in difficoltà, che cosa può fare la CGL e quali speranze possa avere per il mio futuro? E' una politica per disincentivare lo studio, devo forse smettere di studiare? Vivendo insieme abbiamo strade diverse ma stesso destino, quello del paese, mi chiedo come possiamo migliorare il futuro insieme. Come recuperare che si rassegna e smette di cercare lavoro? Come decidere di adersi capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di far raffida con qualcuno qualcosa, una formalità.